Riesce a dare la giocata giusta E qua c'è anche la possibilità di andare a rete per il Guardavalle Guardavalle che ha fatto meno di quanto poteva e Castrovillari che ha giocato meglio di come si pensava In manovra e Blaconai in partenza, c'è solo Papaleo davanti a due Lui recupera Barillaro, arriva anche Ritano ed è lui che salva la condizione in questa situazione Anche se gli dà filo da torcere, Blaconai, ancora Blaconai, prova a servire Donato Donato al tiro, poi prova la semirovesciata, non riesce neanche quella, la sforbiciata dall'altra parte arriva da Casciaro Ma quella dell'anticipo è stata una gara senza sorprese Aita vuol tenere il passo delle grandi e il Guardavalle merita di stare tra gli eletti Ecco il Burgo, Burgo porta la palla, l'accompagna fino al gol Si arriverà anche ai 2-3 minuti possibili di recupero Dorato, Dorato, tu per tu con il portiere del Castrovillari Ed è 2-0, festeggia a modo suo, modi canguro, l'argentino E' troppo se diciamo che forse c'è stato uno stallo mentale in questa settimana E meno male che è capitato un Castrovillari che non ha punito Si, sono d'accordo sulla prima analisi, sulla seconda un po' meno Perché più che non ci ha punito magari siamo stati fortunati noi Perché non è stato un vero e proprio infortunio il loro nel primo gol Ha avuto qualche occasione per metterci ancora in difficoltà Noi oggi devo dire che siamo stati forse fortunati Quello che ci è mancato in altre circostanze oggi l'abbiamo avuto tutti Per cui prendiamo per buono solo il risultato Per il resto dobbiamo davvero lavorare tanto ancora Ma diciamo che non è stata una delle mie migliori partite Nemmeno di tutta la squadra voglio dire Però la partita sinceramente era una partita da 0-0 Cioè che un episodio poteva sbloccarla e portarla fino alla fine Purtroppo c'è stato quello infortunio sul nostro gol E la partita è andata così